Il suo è stato uno dei volti più rappresentativi della comunità islamica trevigiana Abderramane County. Si è spento la notte scorsa dopo qualche mese di malattia. Da oltre 20 anni in Italia era diventato un punto di riferimento non solo per i fedeli musulmani ma anche per le istituzioni. Era lui ad incontrare a nome della comunità il comune di Treviso. Nel 2015 nel corso di un incontro ufficiale a Kasugana County si era fatto portavoce del disagio dei fedeli musulmani per gli attentati al Bataclan a Parigi. Era stato sempre lui a commentare l'espulsione dell'imam supplente dalla moschea di via Pisa definendolo una persona ortodossa ma innocua. Al tempo stesso County aveva sottolineato che se il ministero avesse elementi per ritenerlo pericoloso non se la sentiva certo di criticare la decisione presa. A maggio dello scorso anno a spegnersi era stata la moglie descritta come una pioniera dell'integrazione per le altre immigrate a Treviso e nella marca. County lascia tre figli di 17, 15 e 9 anni.